E' andato in scena martedì 14 giugno sul palco del teatro Pietro Larettino lo spettacolo Allegretto per bene ma non troppo di Ugo Chiti con la regia di Amina Kovacevic. La giovane compagnia degli ostinati composta da diplomati della scuola di teatro Libera Accademia di Arezzo si è cimentata in un testo straordinario che affronta in toni tragico-grotteschi l'italietta conformista degli ultimi anni del fascismo in un quadro corale allargato ad un'intera comunità. Questo è un gruppo particolare che insieme fa nove anni quindi sono ragazzi che hanno una grande esperienza e hanno già partecipato a edizioni particolari anche al gioco stesso e a altre iniziative insomma quindi sono diciamo delle vecchie volpi del palcoscenico e niente sono molto contenta di fare anche questa esperienza con loro lo spettacolo penso che ne valga la pena quindi consiglio a tutti a chi ha voglia insomma di venire a vederlo.